Ben trovati, ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it. Quest'oggi vedremo come utilizzare nel dettaglio la nuova applicazione Frame.io disponibile gratuitamente per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento Adobe. Frame.io ci permette di condividere file, progetti e sequenze con collaboratori e clienti e ricevere così in poco tempo un feedback sul nostro lavoro di montatori video. Iniziamo subito. La prima cosa da fare per accedere al pannello Frame.io è cambiare lo spazio di lavoro. Per cambiare spazio di lavoro dobbiamo andare nel menu finestra, andare alla voce spazi di lavoro e scegliere lo spazio di lavoro chiamato Revisione. È un nuovo spazio di lavoro che ci permetterà appunto di accedere al pannello Frame.io. Clicchiamo. A questo punto se non lo abbiamo già fatto dobbiamo effettuare il login a Frame.io. Ricordiamo che se avete sottoscritto un abbonamento Adobe l'abbonamento a Frame.io nella sua versione base è già a vostra disposizione. Quindi clicchiamo su continua con il tuo user ID Adobe. Usare questa applicazione è molto semplice. In alto la prima parte della barra superiore ci permette di gestire a sinistra i nostri progetti quindi possiamo creare un nuovo progetto o switchare su un progetto già esistente mentre a destra possiamo gestire il nostro profilo, effettuare il logout, ricevere assistenza, aggiornare eccetera eccetera. La seconda barra superiore invece ci permette di gestire il progetto in cui ci troviamo quindi possiamo scaricare i file del progetto, caricare nuovi file al progetto o semplicemente creare una nuova cartella, un nuovo raccoglitore per organizzare meglio i nostri file. Nella parte destra possiamo aggiungere un collaboratore al nostro progetto Frame.io, vedere l'elenco delle persone abilitate a modificare il nostro progetto, condividere gli elementi del nostro progetto, cambiare la visualizzazione del progetto eccetera eccetera. La prima cosa da fare per iniziare a lavorare con Frame.io è creare un nuovo progetto quindi nella rotellina che trovate in alto a sinistra, scegliete Add Project e impostate il vostro primo progetto. C'è poco da fare qui, scegliete un nome, Progetto Demo, potete anche lasciare così per iniziare le impostazioni che trovate di default ma potete scegliere anche di abilitare la visibilità del progetto solo a voi stessi o al vostro team, quindi a tutte le persone che collaborano con voi e che avete precedentemente autorizzato. Ci sono altre opzioni che sono facilmente intuibili ma per il momento clicchiamo su Create. Come dicevamo noi possiamo aggiungere al progetto sia file, sia il progetto Premiere stesso, sia la nostra timeline. Per avere un feedback dai nostri colleghi o dal nostro cliente sul lavoro che abbiamo fatto potremmo voler aggiungere al progetto di Frame.io la nostra sequenza. Quindi la prima cosa da fare è andare su Upload e scegliere la voce Active Sequence. In questo modo aggiungeremo al progetto Frame.io la sequenza che abbiamo attiva in quel momento. Procediamo. Abbiamo subito alcune impostazioni che possiamo scegliere di modificare. La prima è il nome. Di default il nome è il nome della sequenza che stiamo caricando ma possiamo scegliere di dare il nome che più preferiamo. Qui per esempio progetto o meglio sequenza demo. Consiglio sempre di non utilizzare gli spazi sempre un trattino o un underscore. Poi abbiamo la possibilità di scegliere tra vari preset. In altre parole possiamo scegliere la qualità di condivisione del nostro lavoro. Ovviamente il 1080 è la qualità in HD, la maggiore. Abbiamo poi il 720p oppure abbiamo la possibilità di condividere solo l'audio in base al progetto a cui stiamo lavorando. In questo caso scegliamo Web 7 e 20. possiamo scegliere quale parte del nostro progetto condividere o meglio quale parte della nostra sequenza condividere. Possiamo scegliere di condividere l'intera sequenza ed è l'impostazione predefinita, un in e un out nel caso in cui abbiamo selezionato appunto un marcatore di in e un marcatore di out nella sequenza oppure condividere la work area, l'area di lavoro della sequenza. In questo caso noi condivideremo l'intera sequenza. Abbiamo poi la possibilità di scegliere quale posizione, quale folder, quale path del nostro hard disk utilizzare per salvare i file temporanei. Quando caricheremo un progetto in frame.io verrà lanciato immediatamente il media encoder che convertirà la nostra sequenza o meglio esporterà la nostra sequenza in un file e questo file poi verrà caricato nel cloud di frame.io. Qui possiamo appunto decidere quale folder impostare per salvare i file temporanei. Se non l'avete fatto dovete scegliere una folder quindi una location sul vostro hard disk utile per questo scopo e cliccare su ok. Fatte queste impostazioni iniziali possiamo cliccare su upload. Come detto la prima cosa che accade è che verrà aperto il software adobe media encoder perché la nostra sequenza verrà esportata in base alle impostazioni di export che abbiamo adesso indicato nelle impostazioni di caricamento. Il file verrà convertito e poi caricato pronto per essere condiviso con colleghi e collaboratori da cui vogliamo ricevere un feedback. Terminata la conversione del file subito inizierà il caricamento dello stesso nel cloud di frame.io. Terminato l'upload frame.io caricherà il video sul proprio cloud e lo vedremo comparire nell'area di progetto. A questo punto possiamo condividere il filmato con colleghi collaboratori da cui vogliamo ricevere un feedback. Farlo è molto semplice basta selezionare l'elemento da condividere e cliccare sul bottone share. Scegliamo ora share for review condividi per revisione. Verrà automaticamente generato un link che noi possiamo copiare e condividere così con i nostri collaboratori o con il nostro cliente. Quando il nostro collaboratore o il nostro cliente riceverà il link potrà semplicemente utilizzarlo con qualunque browser per accedere al video, vederlo ed aggiungere commenti. Come potete vedere il video che abbiamo precedentemente caricato verrà visualizzato nel browser del nostro cliente il quale potrà visionarlo e aggiungere eventualmente delle note. Per esempio questa immagine necessita di un'ulteriore lavorazione in color correction il nostro utente potrà aggiungere un commento del tipo migliorare la color correction cliccare su send per inviare il commento aggiungere un indirizzo di posta elettronica per riconoscere chi è che ha fatto il commento e cliccare su condividi. Il commento verrà aggiunto alla timeline di visualizzazione. Non solo il nostro cliente o il nostro collega potrà anche evidenziare una porzione di immagine che magari necessita di un'ulteriore lavorazione. Per esempio potrebbe voler aggiungere un quadrato per evidenziare una porzione di immagine che magari necessita di ulteriore lavorazione e ovviamente sempre il commento. Questa sezione necessita di ulteriore lavorazione. Come sempre poi il commento dovrà essere inviato e il commento lo vedremo aggiunto nella timeline. Quando il nostro collaboratore o il nostro cliente è soddisfatto del lavoro che voi avete fatto può marcare la clip come approved quindi approvata. Diversamente se sono necessarie altre lavorazioni come in questo caso ci sono alcuni commenti quindi altre migliorie da portare al file il nostro cliente collaboratore potrà scegliere per esempio la voce need review quindi necessita di revisioni oppure potrà segnare la clip come in progress ovvero in lavorazione. Ipotizziamo che questo video è stato approvato e quindi noi marchiamo questo video come approved. La cosa bella di frame.io è che tutti questi commenti, queste note che vengono aggiunte dal collaboratore o dal cliente sono automaticamente condivise con la nostra applicazione all'interno di Premiere Pro. Per visualizzare i commenti e anche lo stato di approvazione della clip sempre nel pannello frame.io possiamo fare doppio clic sulla clip che abbiamo condiviso. In questo modo verrà aperta la clip ma cosa ancora più interessante verranno mostrati i commenti che sono stati fatti con ovviamente anche le notazioni quindi le varie aree evidenziate e il commento che il nostro revisore ha fatto alla clip. Noterete anche che in alto appare un pallino verde. Questo pallino verde sta a simboleggiare lo stato di approvazione della clip che precedentemente avevamo marcato come approvata. Nel caso in cui il nostro cliente o il nostro collaboratore non fosse ancora soddisfatto e quindi ci richiedesse di apportare ulteriori modifiche alla clip, alla sequenza, al filmato su cui stiamo lavorando, marcherà lo stato del video come needs review e noi vedremo questo cambiamento ovviamente in tempo reale in Premiere Pro e il pallino da verde in questo caso è tornato ad essere giallo che sta ad indicare che dobbiamo ancora lavorare al progetto per modificare quanto richiesto dal nostro cliente collaboratore. Ricordo che frame.io è disponibile gratuitamente per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento ad obb. Se vi è piaciuto questo video condividetelo con i vostri amici, mettete un like, fate pure i vostri commenti e mi raccomando non dimenticatevi di registrarvi a questo canale YouTube o di venire sul sito internet www.fabbiambrosi.it per ulteriori articoli e lezioni di approfondimento.